Ragazzi sapete che io non uso mai filtri, però è doveroso perché non so cosa ho combinato la faccia ed è diventato un campo minato. Sciaranno gli ormoni. Detto ciò ho fatto gli esami al sangue recentemente. E' venuto fuori che praticamente io non bevo mai, cioè mi hanno chiesto quante volte bevi. E io raga, se ci penso, bevo al massimo un bicchiere la mattina con due pastiglie. Disagio. Io però non mi piace bere, non riesco a bere. E quindi da stasettimana, esattamente domedì, sto cercando di sforzarmi di bere tanto. Avetevi consigli? Io non bevo, non mi piace bere. Inutile dirvi che non bevo il tè, perché per me è acqua calda. Però bevo molto... no, molto no. Mi piace lo zenzero e il limone e il latte di soia, ma quella non è acqua.